Prima di iniziare questa interessante traduzione, informo che ho apportato un restyling al sito www.tinelli.eu dal quale potete accedere ai vari link per le vostre ricerche personali che vanno dalle playlist all'indice alfabetico, dal link per il libro Il Risveglio al menu per arrivare a pagine interessanti. Comunico che per accedere alla pagina Steph Only, alla quale si accede anche attraverso la pagina Indice Alfabetico, è necessaria la password. Se quella in vostro possesso non funziona, richiedete quella aggiornata. Nel ringraziarvi per il vostro prezioso sostegno, vi auguro buona visione. Salve carissimi amici, spero siate bene. Oggi è venerdì 15 gennaio 2021 qui in Italia. Per alcuni di voi che stanno sempre sulle difese, dicendo che viviamo su una terra a globo e non su una terra piana e stazionaria, oggi è arrivato il giorno in cui potete rendervi conto che non viviamo su una palla rotante. Viviamo su una terra piana e stazionaria. Questo volo ha avuto luogo pochi giorni fa. E qui vediamo che è stato aggiornato il 12 gennaio 2021. L'equipaggio di sole e donne dell'Air India ha scritto la storia atterrando nel volo più lungo della storia dagli Stati Uniti volando sopra il polo nord. È molto importante questa informazione che leggiamo qui. La rotta più lunga del volo diretto Air India con il team di piloti di sole e donne è atterrato all'aeroporto internazionale di Kempegoda a Bangalore da San Francisco volando sopra il polo nord. Il volo ha coperto la distanza di 16.000 chilometri, circa 10.000 miglia. L'equipaggio di sole e donne è stato il primo volo diretto senza scalo dalla costa ovest degli Stati Uniti alla sud dell'India. Osserviamo qui attentamente ai 16.000 chilometri, circa 10.000 miglia, sopra il polo nord. Sopra il polo nord. E quella che vediamo qui è una fotografia che è stata postata dall'India Airlines dove possiamo vedere una informazione molto importante. Ha richiesto almeno 17 ore per arrivare qui e allora lavoriamo su questo numero di 17 ore. Hanno aggiunto alcuni video come questo postato dall'aeroporto di Bangalore dove si congratulano con l'air India e qui c'è il video che andiamo a vedere riguardo al volo sopra il polo nord dove vado ad aggiungere qualche commento per arrivare al punto. Il video è stato postato online dall'air India sull'account di Twitter. L'equipaggio, composto da piloti di sole e donne dell'air India, ha scritto la storia. E qui vediamo alcune delle loro fotografie. Hanno volato sopra il polo nord nella rotta più lunga del mondo, come abbiamo già detto prima di 16.000 chilometri. Il volo da San Francisco che ha raggiunto Bangalore il 9 gennaio. Ora, osservate la rotta sopra l'oceano Pacifico e il Giappone del sud verso l'India. Questo è sul globo. E questa probabilmente riguarda la proiezione mercatore. E sul globo si può rappresentare esattamente così. Il video prosegue dicendo che hanno inviato i migliori piloti con più esperienza. E questa volta l'air India si è affidata al capitano Zoya Agrabal per l'incarico. Congratulazioni Air India per chi ha comandato il volo inaugurale del Boeing 777 da San Francisco in India. In un volo con la rotta più lunga sopra il polo nord. Non ho detto questo quando abbiamo visto la mappa, ma lo vedremo dopo. Questa è la prima volta di un team che consiste interamente di piloti femminili che ha volato sopra il polo nord. Altri membri del team che hanno scritto la storia. I capitani Tamnai Papagari, Akanska Sonowane, Shivani Manas. Mi spiace se non pronuncio bene i nomi. Con l'ultima impresa il capitano Zoya è diventata la prima donna comandante dell'air India che ha comandato il volo sopra il polo nord. Prima di fare questo si è distinta come la pilota più giovane che ha volato su un Boeing 777 nel 2013. Tanto di cappello all'intero team per aver fatto questo. Congratulazioni, gentile signore. Andiamo a vedere la mappa adesso. Questa è la rotta da San Francisco fino all'India, all'India del Sud. Lo facciamo rivedere ancora mentre vola sopra il Pacifico, a sud del Giappone, più a sud della Cina, verso l'India. Adesso confrontiamo questo volo sul globo e poi con la mappa della Terra Piana. Eccoci qui. Osservate la mappa, la Terra a globo qui e ricordate che la Terra ruota da ovest verso est. Questo è l'aeroporto internazionale di San Francisco e qui l'aeroporto in India, l'aeroporto internazionale di Kempegovna. Questo volo parte da San Francisco ed impiega 17 ore, secondo il loro sito web, per arrivare al sud dell'India. Ricordate, la Terra gira da ovest verso est e si suppone che l'aereo voli contro la rotazione della Terra ed impiega 17 ore. Questo è quello che abbiamo visto nel video che hanno mostrato loro. Qui siamo a sud del Giappone. Ricordate che Flutter's Banjo è una nota che aggiungo io come Dino abita in Giappone. E posso capire che i credenti del globo mi mostreranno un altro globo dove dimostrano che questa non è la rotta corretta. Anche questo lo so perfettamente. E allora andiamo a vederla. Eccola qui. Questo è il sito web di cui vi ho appena parlato. Quello che usano i piloti The Great Circle Map per calcolare la rotta migliore sul globo. Tutto quello che bisogna fare è scrivere la città o la sigla dell'aeroporto in questo riquadro per ottenere The Great Circle Map. E questo è da San Francisco a Bangalore in India. Proprio qui. Quindi questo è il volo calcolato per collegare queste due città secondo il globo della Terra secondo The Great Circle Map e in nessun modo passa vicino al Polo Nord. Vedete quanto si trova lontana la rotta? Non è per niente vicino. Quindi possiamo prendere questo aereo e lo mettiamo qui che vola secondo la Terra a globo secondo The Great Circle Map da San Francisco a Bangalore in India. Vediamolo ancora una volta. San Francisco il volo dell'Air India verso Bangalore in India per niente vicino al Polo Nord secondo The Great Circle Map secondo la rotta migliore sul globo. Quindi che cosa c'è di sbagliato qui? Lo andiamo a vedere nel report delle donne che hanno volato sopra il Polo Nord e possiamo trovare questo in questa proiezione della Terra a globo. e andiamo a vedere insieme anche The Great Circle Map una delle pagine web preferite dai piloti per calcolare le rotte migliori e non sono per niente e né assolutamente vicini al Polo. Quindi che cosa c'è di sbagliato? Adesso vi dirò che cosa c'è di sbagliato perché l'Air India ha diffuso un'altra immagine un'immagine veramente importante questa qui sotto. hanno pubblicato questa immagine sul loro sito web queste sono le signore i piloti donna che hanno volato da San Francisco a Bangalore in India ma guardate quello che si vede qui questa è la mappa della Terra Piana e qui potete comprendere la rotta di questo volo secondo la mappa della Terra Piana qui c'è San Francisco e qui il sud dell'India quello che ho fatto è stato di sovrapporre questa mappa sopra la mappa della Terra Piana come andiamo a vedere qui così potete comprendere perché questo volo ha fatto la rotta che doveva fare perché quando osservate la mappa della Terra Piana si vede la rotta fra le due città qui abbiamo Bangalore in India e qui San Francisco e questa la rotta la sola ed unica rotta che ha senso sopra una terra della mappa piana e non ha alcun senso sopra la terra rotante e non ha alcun senso nemmeno con la rotta di volo secondo The Great Circle Map ma invece ha un senso perfetto sopra la mappa della Terra Piana è così gente la Terra è piana non c'è alcun dubbio questo volo può essere avvenuto per come hanno fatto solo su una Terra Piana che non ruota ma prima andiamo a dare un'altra occhiata del volo da San Francisco con la partenza da San Francisco che vola fino al sud dell'India sulla mappa della Terra Piana una mappa piana che ha veramente senso questo è quanto è successo esattamente qui tutto ciò dimostra che non viviamo su una Terra che ruota potrei finire questo video qui per quanto mostrato ma voglio fornirvi alcuni altri dettagli su cui pensare questa è la Terra vista dall'alto ok e questo che vediamo è il Polo Nord ricordate che questo volo ha lasciato San Francisco che si trova qui che è durato 17 ore voglio usare un'animazione qui c'è San Francisco e qui il sud dell'India qui sotto esattamente qui ricordate che in questa animazione ci sono volute 17 ore facciamo che ogni ora dura un secondo pertanto questa animazione dura 17 secondi il punto in cui dobbiamo arrivare è l'India che si trova qui e vediamo dove va a finire l'India dopo 17 secondi ovvero dopo 17 ore bene ricordate che è partito da qui da San Francisco per l'India dove vedete questa palla col numero 1 e alla fine del video potete vedere che l'India è esattamente qui giusto? dopo 17 ore di volo quindi questo è il percorso dove avrebbe dovuto volare questo aereo secondo il modello della Terra Globo ma non ha il consenso avrebbe dovuto fare un volo come questo nastro perché è partito da questo punto verso l'India che si trovava esattamente qui ma alla fine dopo 17 ore l'aereo atterrato in questo punto quindi secondo il modello del globo questa sarebbe la rotta di questo aereo e che non ha il consenso gente andiamo a rivederlo l'aereo è partito da qui arrivando verso il polo che sarebbe stato un punto dove il globo sarebbe praticamente fermo e dopo 17 ore è arrivato qui secondo il modello del globo non ha nessun senso questa è la reale situazione una situazione vera che ha veramente senso la stessa realtà di qui che ha veramente senso gente non viviamo su una terra palla hanno solo fatto in modo che crediamo a questa realtà ma non è così è una menzogna la terra è piana e stazionaria e questo volo dell'air India dimostra ancora una volta che non viviamo su una terra a forma di palla rotante ma viviamo su un piano piatto che non ruota vi auguro una buona giornata noi ci vediamo la prossima volta ciao